Situazione sempre più cupa per la VL che avarese in cappa nell'ottava sconfitta consecutiva. Contro l'Open Job Metis la squadra di Sacchetti è sempre costretta a rincorrere, ma perlomeno da battaglia per tre quarti di gara per poi crollare nel quarto quarto, complice l'espulsione di McDuffie che pure aveva fatto una buona partita. Alla sirena il punteggio dice 91-80 e VL penultima in classifica a 10 punti, ora sorpassata da Treviso. Finisse oggi il campionato per Pesaro sarebbe Serie A2, ora c'è la sosta in cui gettarsi anima e corpo nel lavoro utile a scongiurare questa infausta eventualità. Nella Serie B di basket di Tal Service Loreto perde invece lo scontro al vertice con Matelica, al Palamega Box gli ospiti vincono 83-79 una gara in perenne equilibrio. Nel calcio la Viss inaugura al meglio il suo tour de force di derby vincendo 2-0 a recchione di fermo e lucidando un Carson in formato deluxe che decide la contesa con una doppietta da bomber di razza dopo un quarto d'ora e al tramonto del primo tempo. Partita gagliarde di tutta la Viss che domina la fermana rischiando poco anche nei 25 minuti giocati in 10 per l'espulsione di Iervolino. La lotta salvezza però continua senza sosta, mercoledì sera al Benelli, altro derby con l'Ancona a pari punti dei pesaresi. Nel calcio 5 invece l'Ital Service spreca troppo e viene punita 2-1 dalla fortitudo Pomezia che in terra laziale va avanti 2-0 nel primo tempo, dopodiché le velleità di rimonta pesarese si arenano nell'unica rete del gol dell'ex Juan Frank. Nel rugby invece la grinta della Fiorini-Pesero non basta ad arrestare la striscia di vittoria della capolista Verona. Al Tecnovull Rugby Park, nonostante la bella prestazione dei Kiwi, i Veneti guadagnano la vittoria per 32-19.